non limitarti a sognare con last minute store trasformi i tuoi sogni in vacanza last minute store è partner dei migliori tour operator e compagnie croceristiche che tu sia una coppia di sposi, uno studente, un gruppo di amici, una famiglia non accontentarti di viaggiare e basta, realizza il tuo viaggio perfetto con last minute store last minute store è anche biglietteria per concerti ed eventi last minute store trasforma i tuoi sogni in vacanza ci trovi a Bacoli in Viale Olimpico 100 e nella nuova sede di Pozzuoli in via Maria Butiolana adiacente a Piazza della Repubblica in vacanza con i bimbi non perdere la nostra speciale offerta famiglia nei più bei villaggi di Puglia e Calabria pensione completa con quote a partire da 490 euro consulta il sito web last minute store.info o vieni a trovarci nelle nostre agenzie signore 11 signore